Ciao a tutti, io sono Lorenzo Beverati e quest'oggi vi parlerò del mio biernel scorcio. Come tutti i bassi biernel, questo basso è leggerissimo, bilanciato ed estremamente ergonomico, con ampie camere tonali e pick-up con relative elettronica fatti a mano. Questo strumento monta due single coil a bassa impedenza. Bassa impedenza vuol dire maggior respiro ed anche più dinamica. L'elettronica attiva due vie, ovvero alti e bassi, ed un singolo volume dedicato per ogni pick-up. Particolarità di questo basso sono le barre di titanio ai lati del Thrust Road. Il titanio fornisce un'incredibile stabilità al manico, che quindi è molto meno soggetto a cambi di temperatura ed umidità, ed inoltre arricchisce il suono di armoniche. Alla fine di questo video troverete una scheda tecnica completa con tutte le specifiche del mio scorcio. Passerò ora a dimostrarvene la versatilità timbrica. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.